Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Davy My Cry Prima di iniziare vi volevo dire che ho avuto alcuni problemi con Fraps, il programma che ho usato per registrare i giochi Non mi ha registrato per tipo 3-4 volte sia la missione 8 che 9 Quindi io in teoria sono andato avanti e pensavo che stavo registrando e invece no Non registravo Quindi sono rimasto inculato in parole e quindi ho dovuto rifarlo per 3-4 volte Vabbè finalmente ce l'ho fatta quindi meglio così E niente ragazzi eravamo arrivati che dovevamo trovare questo occhio E siamo poi finiti dentro all'acqua eravamo finiti ma vabbè non mi ricordo bene Tipo da un po' che non registravo anche Vabbè ragazzi io vi lascio a vedere questo nuovo episodio E spero che vi piaccia Buon divertimento a tutti Benissimo fammi strada Ecco le bastardi Ecco te qua Come pure Come pure Come pure Come pure Bastardi volanti Vuoi giocare? 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 No, torna qui! Vuoi giocare? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nido... deve essere quello. Perché faccio questo per un burbero vecchio demone? Ah, sì. Ecco perché. Ho capito. Tu devi essere l'occhio. Un'agguata. Massa di bastarde. Sta finendo il tempo. Un'agguata. E' stato un bel combattimento. Ora come torno indietro? Sei un peccatore! Ma ti convertirò? Ma ti convertirò? Non si protegge come il pastore protegge le sue persone. Daremo uno scopo alle vostre esistenze senza senso. Giuite! Un'agguata. 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 Grazie a tutti. 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 L'occhio? Ce l'hai? Ce l'hai? Posso vedere? Ci vedrai anche, ma rimane sempre un cesso che cammina quando sei brutto, volevo qualcosa in fascia. Tante... Demone. E fino al tuo arrivo, prigioniero politico di Mundus, ti sono grato. Non è stato un favore. Hai promesso di portarmi alla torre. Ma certo, mico mio. Ma certo. Di qua. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo nuovo episodio di Davy My Cry. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace anche alla mia pagina Facebook che trovate esattamente nella descrizione qui in basso, insieme al link del mio forum. Se mi volete ancora seguire iscrivetevi al mio canale YouTube oppure alla mia pagina di Facebook che trovate, come ho detto prima, qui in basso nella descrizione. E se volete lasciare un commento fate pure, non vi picchio tranquilli. Detto questo, ci vediamo al prossimo episodio da Frank Civi.